Super Trulia, un chiodatore, un mito, un mito, un chiodatore. No, vabbè, uno stile è una placca da verticale, leggermente strappiombante, però in alcuni punti appoggia anche. Il bello è che cambia molto, si passa magari da buchetti, gocce, prese e svase a mano aperta, dove bisogna proprio andare con la sensazione. Grazie per la visione!